Ciao, in questo video ti mostrerò come è possibile creare in meno di 15 minuti un sito come questo con WordPress grazie a Thrive Team Builder. Ti spiegherò passo passo come funziona questo strumento e soprattutto ti spiegherò a chi è adatto e a chi invece non consiglio di utilizzare questo strumento. Bene, c'è parecchio da fare e da vedere, quindi iniziamo subito. Partiamo quindi da una normale installazione di WordPress. In questo caso ho attivato il tema di default e sto usando la versione di WordPress 5.4.1 con nessun plugin installato e attivo. Il primo step consiste nello scaricare il plugin Thrive Product Manager che mi consente di attivare poi tutti i plugin della suite Thrive. Una volta scaricato, torno sul sito WordPress, vado in Plugin Aggiungi Nuovo e clicco sul pulsante Carica Plugin. In Scegli e in Download vado a selezionare il plugin di Thrive appena installato. Procedo all'installazione e all'attivazione. Una volta installato, eccolo qua a comparire nel mio menu di sinistra del sito WordPress. Quindi lo clicco e la prima cosa che mi viene chiesta è quella di effettuare il login con il mio account Thrive. Perché in questo modo il plugin riesce a verificare che la mia licenza è attiva e quindi darmi accesso a tutti i plugin che posso scaricare e attivare su questo sito. Mi effettuo il login. Mi viene confermato che il login è stato effettuato con successo, quindi posso chiudere questa finestrella di avvertimento. Scendo in basso. E scelgo di attivare il Thrive Team Builder. In particolare al momento disponibile a questo tema chiamato Shapeshift, che è il tema utilizzato da Thrive Team Builder. Quindi lo attivo. Una volta che il plugin Thrive Product Manager ha provveduto a scaricare il Thrive Team Builder e il tema Shapeshift utilizzato appunto dal Team Builder, posso andare sulla dashboard del Team Builder di Thrive. Uno dei grandi vantaggi del Thrive Team Builder rispetto alla procedura standard di creazione di un sito è quella che fornisce all'utente un wizard per guidarlo in tutti gli step necessari per la creazione del sito. Quindi una procedura guidata estremamente semplice che ti permette in poco tempo di avere un sito già pronto all'uso. In questa finestra clicco sul pulsante per iniziare e la prima cosa che mi viene chiesta è un logo. Qua mi viene fornito un'indicazione, ossia una dimensione consigliata di 250 pixel per 40. Io posso cliccare e caricare oppure cliccare questo, il pulsante e il mantenere il logo di default, che per il momento mi va più che bene. Viene chiesto qual è il colore di brand, ossia il colore principale da utilizzare sul sito. A me basta cliccare e scegliere un colore predefinito, quindi io posso variare le tonalità. Supponiamo che in questo sito mi vada bene il verde di questa tonalità. Ok, clicco Apply e definisco il colore principale del sito e clicco nuovamente questo pulsante. In questa schermata, che corrisponde al terzo step nel mio iter, mi viene chiesto di selezionare il tipo di testata, il tipo di header da adottare su questo sito. Come puoi vedere qua ci sono tutta una serie di template già pronti che posso utilizzare. Quindi io posso scegliere quale può essere il logo adatto al mio sito. Supponiamo, adesso per non complicarci troppo la vita, di scegliere questo di default, mi va più che bene. Ok, quindi riclicco questo e vado avanti. Quindi clicco ancora sul pulsante blu per andare allo step numero 4. Come nello step precedente, in questa situazione mi viene chiesta la stessa procedura per il footer, ossia la parte bassa del sito. Qua posso cliccare e scegliere vari tipi di footer disponibili. Ad esempio, un footer con un modulo di contatto e l'icone social, un footer con l'icone social qua, quale indirizzo e quale numero di telefono, oppure footer estremamente semplici e ridotti all'osso. Supponiamo che a me interessi utilizzare il footer anche come un modo per raccogliere indirizzi email per la mia newsletter, la mia lista e quant'altro. Scelgo questa opzione, la versione Lead Generation 04. Mi basta cliccarla e automaticamente viene applicata al mio footer. Passiamo quindi allo step numero 5. In questo step viene chiesto come voglio strutturare la mia home page. Ad esempio, scegliendo da un gruppo di template già pronti, mostrare una pagina già esistente sul mio sito, se mai ne avessi una, oppure di utilizzare il blog come mia home page. Tra queste opzioni, al momento preferisco optare per la prima, ossia visualizzare un elenco di template già pronti per scegliere quello che potrebbe essere più adatto alle mie necessità. Quindi clicco qua e mi viene mostrata un esempio di home page. Se non mi convince, posso cliccare qua in alto su questo menu e scegliere tra diverse tipologie di home page già presenti. Come puoi vedere, questa ad esempio è più orientata per un business locale, questa per un business basato su servizi, diciamo così, questa più orientata a mostrare contenuti provenienti dal blog, questa più rivolta a attività di personal branding. Quindi a seconda del tipo di home page che vuoi impostare, puoi scegliere tra questi template predefiniti. In questo caso scelgo questo template. Quindi mi basta cliccarlo. E automaticamente viene applicato alla mia home page. Ti faccio notare che vedi tutti questi riferimenti, questi utilizzi del verde perché ho scelto il verde come mio colore principale del tema. Quindi in automatico ogni template viene, e ogni pagina, viene declinato in quel colore perché l'ho scelto io. Quindi anche questo rende molto più facile lo sviluppo dell'intero sito. Vado a cliccare ancora questo pulsante per passare allo step successivo, il numero 6. In questa sezione vado a definire il template da utilizzare per il singolo articolo. Come sempre mi basta cliccare qua in alto per scegliere tra diversi tipi di template. Ad esempio posso scegliere un template abbastanza tradizionale nel quale l'articolo viene posto nella colonna principale di sinistra e viene lasciato uno spazio per una sidebar laterale per altri tipi di contenuto. Oppure un tipo di template che lascia una testata ampia per l'immagine in evidenza e dopo tutto il contenuto posto in maniera un pochino più stretta per facilitare la leggibilità. Oppure vedi che ci sono molte altre soluzioni. Puoi scegliere quella che preferisci e le opzioni sono davvero tante per poter iniziare. Io in questo caso voglio scegliere questa immagine in evidenza col contenuto un po' più stretto perché mi piace questo approccio con il contenuto più facile da leggere. Quindi clicco questa e in automatico come sempre viene applicato. Eccola qua immagine in evidenza. E sotto esempio di articolo. Procediamo cliccando su questo pulsante. Vengo condotto al step numero 7 e qua devo definire come strutturare la mia pagina blog. Quindi vado a cliccare come sempre qua in alto e vedo un elenco di possibili soluzioni. Quindi qua un elenco puramente testuale degli ultimi articoli, un elenco a griglia di tutti gli articoli con le relative miniature delle immagini e qua in alto anche una call to action utile per far crescere la mia lista di indirizzi email. Un'altra lista però questa volta con immagine in evidenza e sempre con il blocco qua per la raccolta di indirizzi email. Oppure altre soluzioni. Supponiamo che in questa situazione a me piaccia questo. Stile Mesonry con la barra laterale. Quindi clicco questa e la applico al mio sito. In questo momento vedo solo un articolo perché sul mio articolo essendo un sito WordPress appena installato è presente solo il classico articolo Ciao Mondo e nessun altro. Vado a cliccare ancora questo pulsante per accedere al template di pagina. Quindi qua in questa sezione vado a definire la struttura tipica che può avere una pagina nel mio sito. Vado di nuovo a cliccare qua per scegliere e visualizzare le alternative. Ho questa, la pagina con la colonna laterale e l'immagine in evidenza con questo bordo sagomato inferiore. Quest'altra opzione che presenta oltre all'immagine in evidenza anche un modulo di lead generation. Oppure quest'altra soluzione che mi permette anche di inserire un video nel banner di testa. Oppure addirittura questa che è estremamente semplice, quindi solo il contenuto della mia pagina senza altri fronzoli. Supponiamo di scegliere questa versione. Standard. Ok. Vado a cliccare di nuovo qua e passo allo step successivo. Qua mi viene chiesto di scegliere un menu per il sito. Io al momento, avendo appena creato questo sito, non ho la possibilità di scegliere un menu perché in realtà il menu non l'ho mai creato. Quindi scelgo di scegliere dopo, quindi... Oppure posso tranquillamente cliccare questo pulsante che mi permette di continuare senza scegliere il menu. Quindi in questo caso, non avendo né uno né l'altro, né l'header e il footer menu, scelgo di continuare e vado a definire dopo questa opzione. Il wizard iniziale è completato, quindi posso visualizzare un'anteprima del mio sito. Clicco questo pulsante ed ecco il mio sito pronto all'uso. Quindi chiaramente ci sono ancora ritocchi da fare, interventi di personalizzazione, però è visto come in pochi minuti, tramite una procedura guidata, ho creato un sito già utilizzabile. Quindi si tratta di una modalità di creazione di siti che sicuramente può avere un forte appeal per tutte quelle persone che cercano un sito soprattutto per utilizzare i contenuti, per far crescere la propria lista, per fare attività di marketing, per promuovere il proprio brand personale, la propria attività. Il Drive Team Builder non è sicuramente, o perlomeno non è ancora, un sistema, una procedura per creare qualunque tipo di sito. Ad esempio se ho già in mente di creare un sito con WooCommerce, per ipotesi non uso questo perché tra l'altro WooCommerce non è nemmeno supportato. Quindi si tratta di uno strumento per creare una specifica tipologia di siti. Torniamo ora nel back office di WordPress per vedere ulteriori approfondimenti su questo tema. Quindi torno qua nella bacheca. Ti voglio far notare che andando in pagine tutte le pagine ti faccio notare che il Drive Team Builder ha già creato un home page, una pagina articoli in automatico. Quindi non devi andare a impostare in impostazioni, lettura, la home page da utilizzare, la pagina blog perché ci ha già pensato lui. Quindi è un ulteriore step in meno, nonostante sia uno step veramente semplicissimo, che però spesso confonde le persone che si avvicinano a WordPress per la prima volta. Quindi in questo caso il tema ha pensato anche a questo, ad effettuare l'impostazione corretta. Prima di procedere vediamo anche di creare il menu di questo sito così da assegnarlo e poterlo utilizzare effettivamente come menu principale di questo sito. Quindi andiamo in aspetto, menu, chiamiamolo menu principale, lo creiamo e andiamo a rinominare la home page in modo più semplice, com. Lasciamo poi blog e in questo momento lasciamo anche pagina di esempio. Una volta definito il menu, decidiamo di salvarlo. Andiamo poi a personalizzare più in dettaglio il nostro tema. Accediamo alla Drive Dashboard e selezioniamo Drive Team Builder. In ogni momento da questa interfaccia possiamo accedere alle diverse funzioni di personalizzazione e ad esempio tornare anche nel wizard per definire alcuni punti che magari abbiamo tralasciato nella fase iniziale. Ad esempio possiamo andare nel menu e andare a scegliere questa volta il menu principale come menu della testata e cliccare il pulsante per attivarlo. Andiamo a vedere l'anteprima del sito. Come puoi notare il menu che abbiamo impostato all'interno della sezione Aspetto menu di WordPress è riportato qui. E in questo caso, in base a questo stile di testata, questo stile di header, in pratica l'ultima voce di menu è riportata come una sorta di pulsante. Volendo possiamo cambiare scegliendo un altro tipo di testata oppure andando a modificare e personalizzare questa testata particolare. Infatti con Drive Team Builder hai la possibilità di non solo scegliere diversi tipi di template già preimpostati, ma puoi anche andare a personalizzare i singoli elementi del template. Passiamo qua in basso in rassegna l'impostazione della nostra home page e iniziamo a effettuare alcuni interventi sia di creazione di contenuto sia di personalizzazione perché voglio mostrarti le differenze rispetto a un normale tema per WordPress e le potenzialità di questo strumento. Quindi, supponiamo di andare a creare un nostro nuovo articolo, quindi creiamo un nuovo articolo, diamogli un titolo, scrivo video qua perché mi aiuta come promemoria. Questo perché Drive Team Builder supporta i post format, ossia i formati articoli che nella maggior parte dei casi i temi per WordPress un po' ignorano o sfruttano decisamente poco. In questo caso vengono supportati i formati standard, che è quello per il classico post, ma anche quello video, audio ed eventualmente immagine. Il formato video e audio sono particolarmente utili quando tu hai degli articoli dove magari il contenuto video oppure il contenuto audio è il contenuto principale. Questo ti permette di avere a disposizione ben tre o più template per articoli, quindi hai un certo stile di visualizzazione quando l'articolo è solo testo, uno stile diverso quando l'articolo contiene video e un contenuto, uno stile diverso quando l'articolo è audio. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta. Quindi supponiamo adesso di scrivere un articolo. Inserisco del testo a caso. Qua in documento, come formato articolo scelgo video. Nello scegliere video, qua in basso compare l'opzione di Drive per il contenuto video, che mi permette di scegliere tra un video da YouTube, da Vimeo, da Wistia oppure Custom. Ossia se scelgo Custom posso caricare un video io direttamente sul server. Quindi scelgo YouTube per semplicità, vado su YouTube e supponiamo di scegliere questo tipo di video. Quindi copio il link del video, torno qua, incollo l'URL del video di YouTube e gli dico di nascondere il logo di YouTube e posso anche effettuare altre personalizzazioni. Ad esempio l'autoplay che lo sconsiglio, nascondo il pulsante del fullscreen eccetera eccetera. Posso anche decidere da che minuto e da quanti secondi far avviare la riproduzione del video. Vediamo di inserire anche l'immagine in evidenza, quindi vado a caricare un'immagine in evidenza per questo video, per questo post. Supponiamo questa, ok. Una volta caricato la imposto e poi procedo a pubblicare l'articolo. Vado a visualizzare l'articolo e vedi che in questo caso essendo un articolo impostato come formato video, nella testata viene riportata l'immagine in evidenza, il titolo, ma qua ho il player video. Quindi cliccando quest'icona io posso mandare in riproduzione il video. Ciao, in questo video ti voglio mostrare. In pratica questo post utilizza un formato specifico perché è un post che io ho classificato come formato video. Infatti se qua in alto io vado a selezionare Edit with Drive, mi chiede se voglio andare a personalizzare il template relativo al video post, che è un template particolare diverso rispetto a quello del classico post che non è video. Torniamo indietro, andiamo in Nuovo articolo. E supponiamo di creare un nuovo articolo, in questo caso, scrivo Audio per semplicità, e come formato articolo scelgo Audio questa volta. Inserisco un testo. Avendo scelto l'opzione Audio, vedi che qua in fondo al post vengono visualizzate le impostazioni Drive relative ai contenuti audio, che mi permettono di scegliere tra un contenuto proveniente da SoundCloud, in questo caso metterei l'URL del file su SoundCloud, Spotify oppure Custom, che mi permette di caricare un file audio, ad esempio mp3, cosa che vado a fare in questo momento. Ok. E vado a caricare un file audio. Posso anche decidere, in relazione a questo file audio, di mandarlo in Autoplay, ossia riproduzione automatica, in loop, riproduzione continua, o permettere agli utenti di scaricarlo. In questo caso nessuna delle tre, quindi prima di andare a pubblicare, vado a impostare anche qua un'immagine in evidenza, perché è buona prassi sceglierne sempre una quando si pubblica un post. Quindi, carica, seleziona file, e vado a pescare un'immagine da utilizzare. Eccola. Supponiamo questa. Imposto immagine in evidenza, e poi pubblica. Vado a visualizzare l'articolo, e come vedi, anche in questo caso, ho un'impostazione, un template simile a quella precedente, ma anziché il video, questa volta ho l'audio. E cliccando quest'icona, mando in riproduzione il brano, che io ho caricato. Terzo test, andiamo in nuovo articolo, e questa volta scrivo un articolo di semplice testo. Quindi, niente audio, niente video, lascio formato standard, carico un'immagine in evidenza, e vado a pubblicare. Visualizzo l'articolo, e come puoi vedere, ho un template diverso rispetto agli altri due. Qua, immagine in evidenza, niente barra laterale. Un template diverso, infatti, se vado in Edit with Thrive, come puoi vedere, qua, ho un template che è diverso rispetto a quello utilizzato per i post in formato audio e in formato video. Questa funzionalità, offerta da Thrive Team Builder, di rendere disponibile in modo così facile, così immediato, diversi formati, diversi layout di contenuto per gli articoli, in base al fatto che contengono principalmente audio, principalmente video, o principalmente testo, la trovo molto interessante per tutti quei blogger, quei professionisti, quelle persone che fanno un'attività di content marketing. Penso ad esempio a chi ha un podcast, a chi spesso pubblica contenuti su YouTube, ma anche un blog, in questo modo può veicolare in maniera più facile, più immediata e graficamente più accattivante i propri contenuti audio e video, differenziandoli dai classici articoli puramente testuali. La possibilità di poter disporre dei vari tipi di formato di articolo è nativa, è disponibile nativamente in WordPress, però spesso, nella maggior parte dei temi, richiede interventi manuali, la creazione di layout personalizzati per poter essere sfruttate in maniera adeguata e, nella maggior parte dei casi, vuol dire rivolgersi a uno sviluppatore, comunque una persona con certe competenze per poterla applicare e implementare sul proprio sito. In questo caso, è già disponibile, pronta all'uso per tutti quelli che utilizzano Drive Team Builder. Come ho avuto modo di notare, questi tre articoli io non li ho creati con alcun strumento di Drive, ma li ho creati semplicemente con l'editor standard di WordPress Gutenberg. Quindi, quando ho creato gli articoli, li ho creati come su qualunque altro sito WordPress. Ma, utilizzando Drive Team Builder, hai la possibilità di personalizzare ogni pagina e ogni articolo utilizzando Drive Architect. Quindi, vedi che quando io sono in questa pagina di un articolo, qua in alto, ho la funzione Edit with Drive che mi permette di scegliere tra editare questo singolo articolo con Drive Architect oppure il template di questo articolo. Cosa significa questa differenza? In pratica, se io clicco Edit with Drive Architect, entro in Modifica, ma vado a modificare il contenuto specifico di questo articolo. Quindi, non vado a modificare in questo caso il template, ma vado a modificare il contenuto diretto di questo articolo. Quindi, se io volessi andare a creare, che so, posso aggiungere un pulsante, ad esempio, qua sopra l'articolo, oppure andare a creare un nuovo testo, ad esempio, posso crearlo qua affiancato, un nuovo testo, eccetera, eccetera, posso andare a personalizzare questo contenuto con gli strumenti di Drive. È una cosa che per gli articoli ti sconsiglio di fare, perché preferisco basare la creazione degli articoli sull'editor standard di WordPress, ma potenzialmente tu puoi farlo. Però, è importante capire che questa modalità riguarda la modifica del contenuto dell'articolo. Se tu, invece, desideri modificare il template dell'articolo, ossia il template utilizzato da tutti gli articoli, quindi modifichi una volta, ma è una modifica applicata a tutti gli n articoli che hai sul sito, devi selezionare Edit with Drive e poi andare a modificare il template. In questo caso, puoi entrare nella modifica del template del singolo articolo e quindi applicare modifiche che verranno poi applicate tutte le volte che pubblicherai un articolo. Quindi, in questo caso, ad esempio, la scritta Comments in inglese non mi va bene, la traduco in italiano. Questa è una modifica molto, molto semplice. Vado qua a lato, scelgo l'icona dei social, posso andare, ad esempio, a modificare il background di questo spazio. Quindi, ad esempio, scelgo un tipo di colore diverso, ok, oppure addirittura un colore personalizzato. Posso scegliere il colore e anche l'opacità. Supponiamo 100, ok, oppure qualcosa di più tenue. Va bene così. Lo applico e via via posso andare a creare e personalizzare ogni singolo layout. Qua in fondo, ad esempio, la lista degli articoli posso decidere di andare a modificarla in senso di creare una lista, una griglia oppure uno stile di questo tipo. posso anche scegliere di filtrare i post scegliendo gli ultimi due, tre, quattro articoli in base alla data di pubblicazione oppure sfruttare gli articoli correlati. Quindi scegliere di visualizzare solo gli articoli correlati per categoria, tag e altri elementi. Quindi è un modo per evitare l'aggiunta di un plugin aggiuntivo per gli articoli correlati ma sfruttare direttamente le funzionalità del Drive Team Builder. Però, ecco, ripeto, in questo caso vado a modificare il template per tutti gli articoli. Una volta fatto, posso salvare e andare a vedere l'anteprima. Vedi, in questo caso, che è sulla scritta commenti in italiano e qua ho l'icona social con lo sfondo arancio chiaro. Ti mostro ora altre caratteristiche e funzionalità di Drive Team Builder. Andiamo a vedere nella bacheca di WordPress e accediamo alla sezione Drive Dashboard Drive Team Builder. All'interno di quest'area puoi andare a modificare facilmente tutti i singoli template che il Team Builder ha creato. Quindi abbiamo la home page, il post singolo, la pagina singola, il video post, ossia il singolo post però quando scegli come formato video, il singolo post quando scegli come formato l'audio e anche la pagina di errore 404 che è una classica pagina che spesso quando si installa un tema ci si dimentica di creare quindi si piglia quella che il tema di default ha creato che spesso è in inglese che spesso è poco personalizzata eccetera eccetera. In questo caso noi possiamo andare a modificarla e tu qua in questa pagina puoi andare a inserire il testo che vuoi magari anche un video simpatico di spiegazione per il fatto che quella pagina è un 404 e fornire anche elementi utili per trovare contenuti. Quindi qua c'è già un motore di ricerca puoi personalizzare il messaggio che vuoi e aggiungere eventuali icone immagini o altri elementi una volta fatto puoi salvare. Sempre all'interno di questa schermata di questa dashboard puoi anche effettuare operazioni un pochino più sofisticate ad esempio qua in alto puoi cliccare sull'icona manage e per il tema attivo tu puoi duplicarlo esportarlo o vedere un'anteprima. Duplicarlo ti permette di creare un duplicato come dice il nome stesso del tema attuale. in questo caso io ho creato una copia del tema la posso rinominare in questo modo posso decidere anche di attivarla e andare a lavorare su una versione custom del tema di partenza. Quest'operazione mi ha permesso di creare un duplicato del tema originale che io posso andare a modificare in maniera anche pesante ma senza perdere il tema originale quindi in questo caso posso andare a riattivare un domani il tema originale per tornare indietro e ogni tema posso anche esportarlo per importarlo su altri siti sui quali utilizzo Drive Team Builder. Sempre in questa sezione ho a disposizione il wizard all'interno del quale posso accedere a tutte le sezioni che ho impostato in fase iniziale quindi qua posso accedere rapidamente a quel punto quella sezione per rivedere le mie scelte posso andare in branding in questa sezione posso impostare il colore principale posso caricare eventualmente il logo versione dark e versione light ok in questo caso ho caricato due loghi diversi uno in versione scura e uno in versione chiara posso anche decidere a quale link far puntare il logo quindi potrei farlo puntare anche a contenuti diversi rispetto all'home page posso caricare anche una favicon da utilizzare sul mio sito quindi mi basta anche in questo caso andare a scegliere una favicon da utilizzare sul mio sito posso nella sezione typography andare a definire quali sono gli elementi base della tipografia del mio sito a me basta andare in edit e da qui posso scegliere stile colore formato di ogni singolo elemento tipografico base del sito dall'h1 all'h6 al paragrafo alle liste al link al blocco quote al testo semplice al testo preformattato quindi io per ogni elemento posso andare qua a scegliere il tipo di font la famiglia il colore lo stile se è tutto ad esempio uppercase è tutto maiuscolo il title case quello è l'iniziale in maiuscole oppure lowercase con tutte le lettere minuscole oppure disattivare la trasformazione in modo che il testo appare esattamente come l'ho digitato posso salvare e automaticamente queste impostazioni sono applicate su tutto il sito qui posso chiudere e tornare alla mia interfaccia la sezione template è quella che abbiamo visto in side speed ho diverse funzionalità molto utili a tutte le persone interessate e chi non lo è alle prestazioni del proprio sito ad esempio in quest'area ho la possibilità di installare e automaticamente configurare nel modo corretto per Drive Team Builder questi due popolari plug-in per la cache non è detto che anche altri plug-in come ad esempio WP Rocket o altri siano perfettamente funzionali in questo caso però ho la possibilità di installarli e attivarli e configurarli con un semplice click nella sezione image optimization ho la possibilità di scegliere tra un servizio completamente automatico e uno invece gratuito per l'ottimizzazione delle immagini e anche in questo caso già integrato con tutto il flusso di lavoro di Drive Team Builder inoltre c'è anche la sezione AMP che mi permette di abilitare le cosiddette accelerated mobile pages questa funzionalità può essere interessante soprattutto per quei siti che pubblicano spesso notizie e che potrebbero beneficiare effettivamente di avere un sito compatibile con la tecnologia AMP a me basta abilitarla e in questo caso posso attivare la versione AMP sugli articoli sulle pagine o eventualmente anche sulle landing page posso inoltre anche abilitare Google Analytics e convertire i link interni alla versione AMP delle pagine personalmente non ho provato questa funzione però può essere utile avere un tema che è già perfettamente compatibile con AMP soprattutto in considerazione del fatto che implementare una versione AMP di un sito WordPress non è sempre una cosa facilissima perché non tutti i plugin sono compatibili con questa tecnologia per concludere ti voglio mostrare alcune caratteristiche che però sono comuni un po' a tutti i prodotti della famiglia Drive e soprattutto Drive Architect quindi vado qua in Drive Dashboard e voglio farti notare che hai a disposizione tutta questa serie di sezioni che ti permette di impostare alcune caratteristiche generiche su tutto il sito molto utile questa funzionalità che ti permette ad esempio di impostare degli script che possono essere quelli di Google Analytics del Pixel di Facebook o di altro a livello generale del sito quindi decidendo se lo script va inserito nel LED dopo il tag di apertura del body oppure prima del tag di chiusura del body finale quindi te basta aggiungere uno script scegliere dove lo vuoi posizionare e installarlo fondamentalmente e sei sicuro che viene applicato su tutto il sito anche in questo caso eviti di installare un plugin aggiuntivo magari semplicemente per aggiungere lo script di Analytics oppure quello di Facebook sempre tornando qua nella Drive Dashboard hai anche la possibilità di gestire tutte le API Connection che cosa sono? sono un modo per integrare ad esempio tramite i form di Drive quindi il form della lead generation o altri per collegarli facilmente a tutti quei servizi di email marketing la suite degli strumenti di Drive Teams è una di quelle che dispone del maggior numero di integrazioni con i vari servizi di email marketing mentre spesso scegliendo altri page builder o altri plugin per WordPress magari si collegano a MailChimp e a ActiveCampaign ma non a GetResponse oppure viceversa con la suite di Drive hai già a disposizione i collegamenti a tutti i servizi di email marketing più comuni e come vedi sono veramente tanti anche alcune piattaforme di webinar e anche altri servizi tipo Recaptcha di Google servizi social per il login e anche altri servizi aggiuntivi ad esempio questi per l'invio delle cosiddette email transazionali possiamo tornare indietro la dashboard e ti mostro anche questa funzione che trovo molto comoda smart site che ti permette di definire alcune variabili standard sul tuo sito ad esempio quante volte ti capita di creare una landing e dover inserire il link della privacy policy ogni volta devi andare a copiarlo e riprenderlo devi inserire il nome dell'azienda l'indirizzo il numero di telefono e soprattutto quando magari vai a creare tante landing page o tante pagine devi ricordarti in caso di modifica all'indirizzo della privacy all'indirizzo o al numero di telefono di doverlo cambiare in diversi punti in questo modo puoi ad esempio impostare un nome standard puoi impostare un numero di telefono un indirizzo email in modo da inserire questi elementi testuali come variabili all'interno del sito ossia tutte le volte che li inserirai quando ti servirà cambiare l'indirizzo email ti basterà cambiarlo qua e automaticamente sarà cambiato in tutte le pagine puoi inserire anche il link per la privacy per esempio vado qua posso incollare questo indirizzo per la privacy policy e posso andare qua inserire l'indirizzo della mia pagina facebook ma non solo posso anche andare a aggiungere e creare nuovi campi personalizzati a cosa servono questi te li mostro subito basta andare qua nella dashboard andare a vedere sul mio sito e vedi che qua in fondo il nome dell'azienda che io ho appena inserito appare supponiamo che io voglia inserire il link alla privacy policy mi basta andare a modificare il template con Drive Architect scendere in basso mi viene detto che qua sto gestendo il footer quindi posso andare a modificare il footer a livello di tutto il sito e a me basta qua all'interno di questa riga scrivere ad esempio privacy policy e dovendo decidere a cosa linkare questo non devo ricordarmi l'indirizzo della mia privacy policy qual è ma lo seleziono creo il link scelgo la voce dynamic e tra i campi globali vedico a disposizione tutti i link che io posso personalizzare nella sezione smart site che abbiamo visto prima quindi scelgo privacy policy insert e qua ho fatto vado a vedere l'anteprima e vedi che la privacy policy è correttamente linkata anche andando a visualizzare un articolo interno la privacy policy è linkata quindi qualora volessi creare l'ending page e un sacco di altre pagine a me basta utilizzare lo smart link che punta la privacy policy e automaticamente ha già il link corretto come vedi una funzionalità molto comoda ultima cosa che è molto particolare però anche in questo caso può avere delle implicazioni parecchio utili riguarda le categorie ossia quando io vado a creare le categorie all'interno di un sito wordpress lo faccio da questa sezione normalmente posso anche andare a modificare le categorie e il drive team builder aggiunge questa funzione che mi permette di reindirizzare una categoria a una pagina questo mi permette di creare delle pagine una sorta di landing page estremamente ottimizzate per determinate categorie e fare in modo che anziché venga utilizzato il classico template della categoria con l'elenco degli articoli per alcune categorie posso sostituire questo elenco standard con una landing page estremamente focalizzata per i contenuti di quella categoria questa funzionalità denota ancora di più la vera natura di drive team builder che non è semplicemente un tema ma è un vero e proprio strumento di marketing concludo sottolineando che drive team builder non è una soluzione adatta a tutti e non vuole nemmeno esserlo sia perché non è indicata la creazione di qualunque tipo di sito ad esempio WooCommerce non è un plugin supportato sia perché soprattutto è rivolta a uno specifico tipo di pubblico drive team builder è una soluzione pensata per professionisti consulenti imprenditori che vogliono comunicare la loro professionalità attraverso i contenuti e hanno bisogno di una diciamo così content marketing machine che desiderano poter gestire in autonomia si tratta in pratica del tipo di persona disposta a rimboccarsi le maniche a farsi il culo per scrivere raccontare creare contenuti che possono attirare e aiutare le persone con le quali poi poter instaurare e far crescere una relazione acquistando la membership di drive teams ad esempio questo tipo di persona ha a disposizione oltre al team builder tutta una serie di strumenti che gli permettono di supportare tutta l'attività di creazione di contenuti di sviluppo della propria lista di contatti email di profilazione di questi contatti di raccolta delle testimonianze e molto altro ancora per arrivare poi alla vendita dei propri servizi prodotti e quant'altro si tratta in buona sostanza di strumenti dati a un pubblico che ha già ben chiaro che il proprio percorso parte dalla creazione di contenuti per proseguire con le attività di lead generation ed email marketing e che è ben chiari i propri obiettivi chi cerca semplicemente uno strumento per realizzare un sito carino così come chi sta cercando di imparare come costruire un sito con wordpress è meglio che guardi altrove anche per chi cerca uno strumento che renda più semplice la creazione di siti per i clienti drive team builder non credo sia lo strumento indicato sia perché non si presta alla creazione di tutte le tipologie di sito sia perché il tipo di licenza non permette un elevato numero di installazioni può avere senso però se il sito fa parte di un'offerta nella quale rientrano molti altri servizi di consulenza per la persona che sta cercando uno strumento che permetta di presentare in modo professionale i propri contenuti e che gli metta a disposizione gli strumenti per facilitare le conversioni senza impazzire troppo in attività di ricerca installazione e configurazione di decine di plugin diversi drive team builder rappresenta però un alleato prezioso come sempre se hai trovato utile questo video ti consiglio di iscriverti al mio canale e attivare il notifica per non perdere i prossimi aggiornamenti che andiamo e